Poi Maniero, buon controllo, Politano la chiama a destra, ecco lui ha servito, ci prova il numero 7, attenzione Politano vuole rientrare sul sinistro, Politano non perdona neanche lui, è 2 a 0 Pescara dopo 21 minuti di gioco. Fanno festa i tifosi abruzzesi, 1-2 terribile per il Siena, Politano, molto bravo, troppa libertà però, rientra sul sinistro, va a calciare forte sul primo palo, gol del 2 a 0, ancora una volta Politano.